tantissima voglia tantissima voglia perché ci vogliamo rifare dopo diciamo non la brutta prestazione ma il brutto risultato di domenica perché i ragazzi posso riproverare sai un po di errori dal punto di vista tecnico però dal punto di vista dell'atteggiamento sono state incomiabili hanno dato tutto fino all'ultimo peccato l'episodio finale ha rovinato tutto però adesso siamo consapevoli che andiamo a affrontare una squadra forte come il fano una squadra costruita per fare bene anche lei sarà una bella partita assolutamente no il fano in rosa giocatori alcuni di altra categoria e dobbiamo stare dobbiamo stare attenti perché sarà una partita difficilissima subentrato da poco un allenatore molto preparato che conosco molto bene un allenatore abruzzese cappellacci che penso che in abruzzo lo conosciamo che lui le squadre è bravo nel farle giocare bene a calcio noi dobbiamo andare lì con una determinazione importante perché sarà una partita importante importante per noi e dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo in più è normale come ho detto prima dal punto di vista tecnico dobbiamo fare molto molto meglio dal punto di vista della prestazione dell'atteggiamento se il risultato è stato non è stato positivo vuol dire che c'è sempre da fare di più c'è sempre da migliorare l'atteggiamento deve deve essere quello di domenica scorsa però mettendoci un po più di concentrazione un po più di cattiveria la soddisfazione i ragazzi se lo meritano se lo meritano perché stanno facendo bene però oltre a loro ci sono altri ragazzi che prima o poi diranno la loro